Decido che un quadro è finito quando, osservandoli dopo averli più o meno terminati, non vedo più cosa possa aggiungere o cosa possa togliere sul quadro stesso. Allora quel livello vuol dire che l'esperienza è terminata, magari si lascia ancora decantare per qualche settimana, li si riguarda, al limite li si mostra anche a qualche collega o qualcuno che si ha fiducia e da lì poi si decide il quadro è terminato.